Machu Picchu, una città misteriosa entrata nella leggenda. La scopriamo con un viaggio attraverso il Peru e la Bolivia. Ci immergiamo nella cultura degli Incas. Il condor era l'animale sacro degli Incas. In Bolivia, dalla pazza, saliamo sulla cima Chacaltaia, 5380 metri. Signora, sono molto cansata o normali? Cansata. Cansata, molto cansata, ma molto forte. L'isola di Tachile ha conservato i costumi tradizionali. Le rovine di Saxayuaman e di Ollantaytambo ci ricordano lo splendore dell'impero degli Incas. Noi preferiamo raggiungere Machu Picchu seguendo il cammino sagrato degli Incas. Un trekking di due giorni per poterla ammirare dalla Puerta del Sol all'alba. Ci immergiamo in civiltà ormai scomparse, piene di culture e di storia che ci fanno riflettere. Grazie. 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 Grazie.